Comuni di Castelvenere, Guardia San Framondi, Sant'Agada dei Goti, Solopaca e Torrecuso sul palco di Europa per la produzione di vino. Sannio Falanghina è la città europea del vino 2019. Abbiamo chiesto al sindaco di Guardia San Framondi, Floriano Panza, l'importanza di un tale riconoscimento. È importante per l'intera provincia di Benevento e per la regione Campania. Noi avremo una superesposizione mediatica che durerà un anno. In questo momento di superesposizione mediatica ci dovremo sapere presentare al mondo con il nostro paesaggio, con le nostre produzioni, con le nostre tradizioni. Se nel frattempo sapremo costruire una grande offerta turistica, credo che ci avvieremo su una strada importante di sviluppo. Parlando invece di agricoltura e di vino, che cosa significa questo premio e questo riconoscimento per il Sannio? Significa tentare di aumentare il prezzo del prodotto. Oggi il prodotto non è valorizzato e non è pagato per quello che vale. Quindi questa superesposizione, portare qua tante persone dove il vino si produce, significa anche dire venitelo a comprare da noi, state da noi. Ovviamente se lo vengono a comprare qua il vino diventa noto e siccome noi siamo i principali produttori di falanghina al mondo, la conseguenza è evidente. Cosa dice alle persone che può offrire il territorio intero, oltre il vino? Nel nostro Sannio non c'è stata mai un'offerta strutturata per l'incoming turistico. È in corso la costruzione di questa proposta. Il Sannio non è solo falanghina, è anche territorio, è anche paesaggio, è anche aglianico, è anche altre produzioni, ma è anche ceramica. Cioè se i flussi di turisti riescono a venire da noi, alla fine saranno interessati a tutto. Un territorio, un riconoscimento che può portare il beneficio all'intera regione Campania, questo per il 2019. A sud non ci sta ancora nessun distretto vitivinicolo che sia veramente attrattivo. Noi potremmo essere il primo distretto vitivinicolo del Mezzogiorno d'Italia che attrae veramente a livello internazionale.